Ognano vince, si alza da tre punti! Spina! Ognano vince, si alza da tre punti! Ognano vince, si alza da tre punti e arriva! Ognano vince! Ognano vince! Ognano vince! Ognano vince! Ognano vince! Trepuzio Ivanovic! Triple a meraviglioso! Incredibile! Trepuzio Ivanovic! À boi d timely! Terrifican part! Pboard cardsare out ofeterread. De neunii! 3 punti, anche lui da 3 punti a Ianovic, la riparte Serrano, pallone in ampio, Ianovic! 4 punti sono! Trova in preparata la difesa dell'Ecoleferro, poi dall'altra parte ancora spetta il ribalzo catturato da Alvianovic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.